Diciamo che a Varese i saldi sono partiti discretamente bene, c'è il sentore da parte soprattutto dei clienti che hanno voglia di guardare qualcosa, voglia di acquistare soprattutto, non c'è il view la ressa degli anni trascorsi perché secondo me i saldi ormai hanno perso proprio il loro appeal e la loro unicità. Voi vendete tanto anche online, questa è anche un'alternativa del commercio ormai smart? Beh diciamo che chi ha un negozio multicanale come il nostro, quindi un negozio fisico e un negozio online è sempre un'opportunità in più vendere anche in maniera digitale. Abbiamo notato che da quando abbiamo riaperto il negozio quindi siamo fisicamente in presenza anche le vendite online sono leggermente calate per quanto riguarda la nostra attività. La gente forse preferisce incominciare a uscire di casa e andare fisicamente in negozio per vedere un po' di gente e tornare alla normalità.